Vabbè che ti sei presentato a Sanremo con la maschera? No, no, era la prima volta... C'era la maschera anti-covid Ah, bravo, bravo, sì, sì Già mi ero messo la maschera anti-covid perché oltre l'oceano ho visto Bad Bunny e Billy Irish che già la mettevano Ho detto, sai che è? Magari me la metto, fa un po' di hype Porca miseria, hanno chiuso il mondo Era quella con gli Swarovski Sanremo tu cantavi live con la mascherina? No, 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 senza Senza Ma tu sai che tu lo sei visto a Sanremo? No, non mi ricordo C'ho qualche dubbio a sto punto Secondo me non si ha visto un cazzo di questo È il motivo per cui mi sono scusato all'inizio Perché io scambio lui per buco Dov'è Junior Kelly? Dov'è? Buonasera a tutti Decore Podcast, episodio numero 8 Direttamente da Parco Appio Questa è la prima puntata che facciamo qui da questo bellissimo parco Stiamo registrando un podcast Video e audio Facciamo sentire che veramente siamo dal vivo Se volete fate un applauso e fate sentire Anche se siete impegnati a bere e a mangiare E c'è un bellissimo pubblico qui intorno a noi A 360 gradi Quindi è un'esperienza Cioè Per la prima volta potrete godere di Danilo da Fiumicino Da tutti i lati Buonasera a tutti Buonasera Parco Appio Eh sì infatti so Ciao ragazzi Infatti mi fa strano sta cosa Che ci guardano da tutti i lati Però vabbè piano piano mi abituo Piano piano ti abitui E che cos'è Decore? Decore è un podcast che vuole raccontare ogni volta con un ospite nuovo E vi diremo quelli che saranno i prossimi ospiti delle prossime settimane proprio qui a Parco Appio Le cose che ci fanno stare bene Le cose che fanno stare bene Chi ci viene a trovare E quindi quali sono i film, le musiche, i libri, le abitudini Quali sono i luoghi del cuore Quelle cose che ti scaldano Qual è la tua comfort zone E magari condividerle tutti insieme E farci una chiacchierata qui al fresco di questo inizio estate 2023 Innanzitutto come sempre vi chiedo scusa per tutto quello che dirà Danilo Perché comunque purtroppo No no chiedilo forte scusa Perché stasera sto a carico Sono gasato dal posto nuovo Quindi mi dispiace per l'ospite Che forse è arrivato il momento Di introdurre Di presentare È un grandissimo piacere avere qui in mezzo a noi Proprio fisicamente in mezzo a noi Su questo bellissimo sofà rosso Junior Kelly Grazie a tutti ragazzi Per me è un piacere essere qui Grazie dell'invito Ho visto quello che fate Spaccate Divertentissimo E non vedo l'ora di farmi due risate Anche io avrò Torcicollo tutto il tempo Guarda Guarda dritto Tanto riprendiamo Quindi Dovremmo fare Una specie di semicirchio Prima o poi metteremo un cameraman Che si sposa Non ce lo possiamo permettere ancora Il cameraman Danilo Quindi Sono preoccupato perché è la prima volta che vedo Che trasmetto live davanti a dei minorenni Quindi Attenzione Sta cosa mi preoccupa Mi dissocio già Seriamente In caso tappategli le orecchie Wikipedia dice Junior Kelly Pseudonimo di Antonio Signore Genzano di Roma 10 ottobre 1991 E' un rapper italiano E' tutto giusto Wikipedia dice già una cazzata Perché io sono De Fiumicino Quindi Genzano Non lo so Ma De Gensano Ma infatti stava sentito sta cosa Ma infatti io pure L'ho comunicato mille volte Ho detto Guarda che io non so De Gensano Però Wikipedia lo può modificare chiunque Io non ci ho mai avuto sbatti Di stare lì a modificare un'altra volta E è rimasto Genzano Forse è un eater Che cerca Ma non so neanche dove sta Genzano io Però a Genzano fanno il pane buono Quindi questo A Fiumicino no Bella per Genzano Quindi questa è la prima volta Nelle puntate di Decore In cui leggiamo sempre la definizione di Wikipedia In cui La definizione non corrisponde alla realtà Tutto tranne Genzano frate Allora Visto che noi abbiamo l'obiettivo Di cambiare un po' il mondo che ci circonda Vi chiediamo Visto che Wikipedia è una piattaforma Creata dagli utenti Anche voi Di provare a correggere Il Wikipedia di Junior Kelly E di mettere che lui È nato a Fiumicino Domani troviamo Amsterdam O qualcos'altro sicuramente Pensa che anche sul mio Wikipedia C'è scritto che io vengo da Genzano Perché è proprio un bug che c'ha Wikipedia Tutti quelli di Fiumicino Mette Genzano Io sono felice di avere come ospite Un paesano Una persona che proviene dalla mia stessa città Che ricordiamo Ricordiamo Fiumicino Ha dato i Natali a parecchi artisti Contemporanei Verissimo Ci abbiamo Junior Kelly Ci abbiamo Da Supreme La sorella La sorella Marasattei Poi c'è il tir di Ribocchi Che è più dei miei tempi C'è Bovo Il calciatore Ex Roma Cioè Magari ne nasceranno altri È una fucina d'artisti Però solo con te c'è stato qualcosa Che non è nato C'era un bug C'era un error Ogni dieci anni salta Salta col talento Però poi Popolarità Siamo tanti frate Tanti Per la quantità di abitanti Siamo tanti Potremmo conquistare il mondo Ma non lo vogliamo Voi di Fiumicino Come avete vissuto nell'infanzia Il rapporto con Roma Perché chi ci vive intorno Solitamente O la guarda Con gli occhi sgranati Di un qualcosa di bello Di grande Oppure la guarda con invidia E con difficoltà Come vedevate Roma da bambini Allora io È una merda Perché c'avevo il booster Quindi non potevo andare a Roma Cioè C'è il senso Cazzo vai Ti fai l'Aurelia Col boosterino Ci metti due ore Per arrivare a Roma Faceva buio Tu devi tornare indietro Perché c'hai tutti i faretti Blu, robe, destra, sinistra Quindi è una merda Ci andavo soltanto Mi ricordo a ballare La domenica Il pomeriggio Al Gilda Partivo la mattina Col Cotral Arrivavo alla pomeridiana In centro Ballavo Alle sei e mezza Chiudeva solo Coca Cola E tornavo indietro Col Cotral Però tu Quando incontravi Le persone Che ne so Fuori Roma Ad esempio In Sardegna In altri posti E ti chiedevano Di dove sei Fiumicino Tu dicevi Fiumicino Cercavo anche proprio Di dire Focene Ma guarda Stato un disastro C'è proprio Spiegato sta Focene Perché ricordiamo Tu sei di Focene Esatto Che vabbè Noi di Roma Sappiamo dove sta Però È questa lingua Di spiaggia Che si trova Tra Fiumicino E Fregene Diciamo È la terra di mezzo Sì È la Fregene Che non ce l'ha fatta E da dove Sfocia il Tevere Giusto È la foce del Tevere O no Sì Nasce da quello Credo Il nome Sì C'è sta la foce Comunque Sta all'inizio E poi prosegue Poi c'è Maccarese Diciamo Ma più che altro All'Isola Sacra Ancora di più Perché ha Tutte e due le foci E in mezzo C'è l'Isola Sacra Però vabbè Ma sarà quello Allora Sarà quello Che poi crea Gli artisti Esatto E l'acqua radioattiva E quel substrato Che genera Queste menti Forse Forse Comunque Focene è anche Diventata famosa Per via Coccia di Morto Sul film Come un gatto Intangenziale Che Ricordiamo anche quello Per chi non è di Roma Focene non è così Regà Assolutamente Come è descritta Non so se hai visto Il film No Te sei perso niente Però no Però Però no Non è così Focene È molto più Tranquilla Carina Anzi Facciamo Facciamo pubblicità Focene Qualche scena pure Di romanzo criminale La serie hanno fatto Quando Freddo Ammazza Buffoni La cosa bella Di quei posti È che Lo sceneggiatore Non te fa niente Cioè Se un Già sembra così Già sembra Già sembra Anni 70 Capito Tu pensa Tu pensa Che il bar che stava Nella via principale E lo sceneggiatore Ho fatto magari Una parte Però secondo me potevo Senti Decore Sono le cose Quelle un po' Che Che ci fanno Sta bene Quelle fotografie Che conserviamo Nel portafogli I ricordi Quei ricordi Che ci fanno Scendere La lacrima Qual è il tuo Primo ricordo Decore Da bambino Ce l'hai Un flash Di una cosa Che è successa Magari in famiglia Con gli amici A scuola Una cosa Che ti è rimasta Impressa C'è sta caratteristica Quando si è piccoli Ci sono delle cose Che ci restano Impresse E poi ce le portiamo dietro E ci ritroviamo A 30 35 40 anni 50 anni Con quel ricordo Vivido E non sappiamo Perché ci ha colpito Così tanto Tu ce l'hai Un ricordo tuo Da bambino Allora sì ce l'ho E ti dico Stavo Praticamente Stavo a casa E Dico a mia madre Dico Guarda mamma Io esco Vado a fare un Falò in spiaggia E non ritorno Torno domani Mi madre mi fa Ma che stai a dire Ma dove vai C'avevo 12 anni 11 anni e qualcosa Nel frattempo Avevo già chiuso La porta di casa Già era uscito io E quella notte lì Mi ricordo È stata devastante Perché comunque C'hai tutte le romane In villeggiatura Cioè c'avevo 12 anni Tutte le romane Con la doppia La seconda casa Veniamo là Eravamo tipo 45-50 persone Una volta C'erano le commitive Ampie Cioè tipo Nel parchetto Della mia zona C'erano 50-60 persone E tutti quanti insieme Facevamo Il falò in spiaggia Le prime cose Il primo bacio Anche mi ricordo Sempre di quelle state lì Sicuramente I ricordi estivi Sono più bei Di quelli invernali In un paese come Focene Ma penso anche Come Fiumicino Cioè comunque sia D'inverno non fa incazzo Lì quando Almeno quando Quando ero io piccolo Non facevi incazzo E le estate Di quando ero piccolo Io soprattutto quella Dove ho fatto Mi ricordo Quel falò incredibile Non posso dire Dove l'abbiamo fatto Perché era totalmente illegale Però è stato divertentissimo Vabbè è andato in prescrizione Comunque No quello l'ho fatto dopo E ancora Sì forse in prescrizione Comunque ma tu Già avevi la passione Per la musica Perché sai Ai falò C'è sempre sta leggenda Che quello che c'ha la chitarra Quello che canta È l'unico che Allora non è partita da lì Non è partita da la chitarra Io tuttora non so Suonare neanche uno strumento Sono molto sincero stasera Io ho iniziato a Ad approcciarmi al rap Un po' per colpa Di mio fratello Che era fissatissimo Con Eminem Quel periodo lì E io modificavo Le canzoni Di Tiziano Ferro E vedevo che le tipe Andavano a scuola a Freggene Era l'unico modo Per farmi notare Era modificare Le canzoni di Tiziano Ferro Loro ridevano E quindi ho detto Cazzo però se ridono Che modifico le canzoni Provo a scriverne una mia E niente Hanno smesso di ridere Facevano cagare totalmente Quindi ho detto Forse è meglio se torno A modificare le canzoni Ma in che senso Però le modificavi Eh tipo Cioè tipo Le cantavo Tipo che ne so Perdono di Tiziano Ferro Era non me lo so spiegare Principalmente Tipo togli le tue mani calde E poi le modificavo Capito E lì ridevano E ho detto Magari continuo Però L'ho detto Poi ne ho fatto una mia Non è piaciuta a nessuno E ho detto Forse è meglio se torno A modificare le canzoni Di Tiziano Ferro Comunque il falò E diciamo La speranza Di conquistare Qualche romana Modificare le canzoni Per piacere le ragazze C'è una componente Perché si ripete sempre C'è un Componente culturale Uno schema Junior Kelly C'ho sempre avuto Un problema Sotto quel punto di vista Io Cioè con le ragazze In generale C'è sempre stato Il mio obiettivo Da sempre Cioè per me È la cosa più bella Del mondo Quindi Il puntino fisso Del rimorchiare Della conquista Di farcela Sotto quel punto di vista Poi crescendo Gli altri Sono iniziato a drogare Io droghe mai usate Facevo altro Perché le tipe Ne guardava nessuno E guardavo io E che boost Ti ha dato La musica Nei confronti Dell'altro sesso Allora me ne ha dato Alto chiaramente Soprattutto dopo Sanremo Però c'è anche qui In mezzo al pubblico Uno che potrebbe testimoniare Io Ho fatto molto di più Da non famoso Che da famoso Cioè io Ho sempre avuto l'ansia Dei rapporti Dovuti alla fama Cioè ho sempre evitato Di Relazionarmi con ragazze E anche uomini Anche in amicizia Che Che mi hanno conosciuto Grazie al mio successo Fra virgolette E quindi ho sempre Rimorchiato di più Ho avuto più successo Con le ragazze Prima Della mia fama Mai dopo Ho sempre preso le distanze Quindi ti è capitato Di rifiutare qualcuno Perché Hai percepito Che Lo facevano solo Per il successo Per il personaggio Per Junior Kelly A Sanremo Per la maschera Per L'immaginario Di default Quando ricevo messaggi Su Instagram Cioè non accettavo Neanche la richiesta Capito Cioè sapevo già Che erano per quel motivo Là Neanche ci conosciamo Io addirittura Quando portavo la maschera Sono stato ad un evento E ho rimorchiato una Che lavorava In un'etichetta discografica Presentandomi come Marco il cameriere Facevo il cameriere Nella mia vita Non gli avevo detto Che ero un rapper La cosa è andata avanti Quando poi mi sono tolto La maschera Questa mi ha riscritto Mi ha detto Cazzo Cioè eri tu Questo qua E io però Ho sempre preferito Distinguere due cose Finché non mi sono tatuato le mani E poi mi sono tatuato Togliere la maschera Praticamente perché Mi stavano a sgamare ovunque E magari la storia della maschera E del portarla E perché portarla E perché togliersela Tra un po' ci arriveremo Ma tornando indietro a Fiumicino Che è diciamo Il punto di partenza Tu fossi domani Il sindaco di Fiumicino Che cosa faresti? Qual è la prima cosa che faresti? Tu pensa Ma sai perché Sai perché mi fai ride? Perché quando sono tornato Dopo Sanremo Mi chiamavano il sindaco De Fiumicino Perché ho fatto il panico Ho fatto proprio un caso Ho fatto dal 18 maggio Al 28 agosto Dopo quel festival Io ho fatto veramente Cioè D'anni inenarrabili E facevo come mi pareva Ma non perché Mi sentivo figo E ho detto Qua ho fatto Sanremo Posso fare come mi pareva No Lo facevo e basta In quel momento lì E è arrivato il sindaco Capito? Perché Dicevano Fai un po' come cazzo te pare Detto questo Però io posso Da abitabile L'abitabile di Fiumicino L'abitabile di Fiumicino No posso testimoniarlo Subito dopo Sanremo A Fiumicino Si parlava veramente Solo di Junior Kelly Cioè Nel bene e nel male Più nel male Secondo me Era una cosa Impressionante A livello soprattutto Sia nazionale Ma locale Era sentitissima Come cosa Quindi No Che farei Io non lo so Tornassi indietro Dopo Sanremo Sindaco Farei Beh però c'era il covid Quindi non si potrebbe fare niente In realtà Però Ce l'ho sempre trovato Un po' una città Un po' spenta Poca movita Capito? A me piacerebbe comunque sia Cioè Giovani in giro Non ce ne stavano E neanche prima Di Sanremo mio Quindi boh Da sindaco così Su due peti Direi più movita Un po' più di movimento Sul lungomare Non c'è un cazzo Una città parecchio legata Comunque all'aeroporto È diciamo Un po' Un po' Stata sempre difficile Detto ciò C'erano i loro motivi Non fa un cazzo Attenzione Non sono il sindaco Proprio questo motivo qua Senti ma Le cose che solitamente Ci raccontano Gli ospiti a cena Noi Le utilizziamo Contro di loro Durante l'intervista E ho già pronto Soprattutto Danilo Però diciamo Io ho imparato Da questo grande maestro Che ti siede Alla posta Maestro dello sputtanamento Io solitamente Spoilero dove abitano Diciamo Gli ospiti Però E non lo sai però A me a Milano No infatti non lo so Non lo so Ma proprio in relazione A questo fatto di Milano Ci hai detto Quei primi 5 mila euro D'anticipo delle date Tu hai preso la Smart E sei andato a Milano Perché hai lasciato Diciamo Fiumicino E quindi Roma Il Lazio Perché ti sei spostato A Milano Torneresti Come vivi là Quali sono le principali Differenze Soprattutto Ma perché Milano Cioè potevi scegliere Qualsiasi altro posto Proprio a Milano Ma perché chi mi ha dato Quei 5 mila euro Era de Milano Quindi i soldi Arrivavano da là No a parte di scherzi Secondo me Quello che ho trovato In quel momento storico È stata un'opportunità Cioè ci ho visto Un'opportunità Cioè Mi contatta Questa agenzia di booking Mi offre un'opportunità Per cantare in tutta Italia Dandomi questi 5 mila euro Che Cioè in quel momento lì Per me erano Infiniti Cioè proprio Non è che dici 5 mila euro No Per me cazzo Lavoravo da mio fratello Come segretario Al negozio di tatuaggi Per carità Mi pagava bene Stavo bene Però 5 mila euro Così De botto Ho detto Sai che c'è forse No fratello ti pagava Ma tu ti tatuavi Eh gratis Eh ma è lui Mi faceva lui Quindi Ci mancava che gli pagava I tatuaggi No Però Ho detto Provo a andare a Milano Prendo parto Comunque sia tutte Le etichette discografiche Stanno lì Tutto il business musicale La gran parte parte da lì Ho detto Provo a fare questa cosa E mi ricordo che Il primo posto in cui ho vissuto Era in un hotel In Viale Bligny Che La figlia della direttrice Dell'hotel Era una mia fan Quindi mi affittava una casa Sì una casa Una camera In questo hotel Per 400 euro al mese Che per Milano era Cioè Un sogno già 400 euro al mese Per una camera d'hotel Finché non è arrivato Il sonno del mobile E mi ha detto Senti di andare a fanculo Perché qua Devo affittare A 2400 euro Ogni tre giorni E Milano per me È stata un'opportunità E si è rivelata Un'opportunità Perché comunque sia Tutto quello che ho fatto Da quel giorno in poi Lo sappiamo tutti Insomma E Sono contento La scelta che ho preso Quel giorno E non torneresti a Roma Perché non torneresti? Allora Se dovessi tornare Cioè se dovessi andare via Da Milano Tornerei a Focene Non torno Cioè io a Roma Ci ho vissuto 4 anni E l'ho trovata Estremamente caotica Cioè proprio Un casino Cioè Per dirti Per spostarti Da una parte all'altra Comunque sia Cioè già per arrivare Sul lungo Tevere A Ponte Milvio Da Garbatella Comunque sia Sono 50 minuti Secchi Cioè in macchina Sono 50 minuti Minimo O no? Confermate da Romani o no? Anche di più Anche di più Ok Ma sai quante volte Danì Sono partito a Fiumicino Che amici miei Siamo arrivati Sul lungo Tevere Non trovavo parcheggio Guarda che annuisce Non trovavo parcheggio Siamo tornati indietro Sì sì Non ci tornerai Perché la trovo Veramente una roba Cioè ingestibile Per quello che sono diventato Oggi Detto ciò Dovessi tornare Da qualche parte Tornerei a Focene E vivrei Roma A piccole dosi Quello sì Assolutamente Roma secondo me Riva una città più bella del mondo Attenzione Molto più bella di Milano Come città Però come vivibilità Secondo me Per il mio punto di vista Sta indietro E quindi il tuo posto De core adesso è Milano No Il mio posto de core È da mia suocera A Ponticino Ad Arezzo Cioè sto lì Mangio Sereno Clima sempre bello Qualità della vita Sopra Roma E sopra Milano Ho trovato la mia via di mezzo Arezzo per me Cioè dovessi andare via da Milano Prima di tornare a Focene Andrò a Viva Arezzo Una via di mezzo Anche perché è destrato Esattamente Sa proprio me Non penso Non ho mai visto sfumature Io sono sempre stato bianco e nero Sono due volte che dico La via di mezzo A proposito di Arezzo E a proposito di Junior Kelly E del suo percorso Gli abbiamo chiesto Quali sono i suoi brani de core Ci ha dato una sua Personalissima playlist Ci sentiamo un pezzetto Di questo brano Che ha scelto E poi ci facciamo dire da lui Perché lo ha scelto E quindi Il primo brano de core Di Junior Kelly Ce lo sentiamo tutti insieme È questo qua E l'applauso va A Junior Kelly Che ha scelto Questo bellissimo pezzo Di Pupo Ma va anche a Pupo E Perché hai scelto Dunque aspetta Cioè innanzitutto Un aggiornamento Hanno cambiato Su Wikipedia Già Adesso Che è stato Qualcuno di voi Per forza Ragazzi È la prima volta Che un appello Di te core Viene portato A termine Finalmente Junior Kelly È nato A Fiumicino Che pure è sbagliato Perché In realtà Tu sei nato a Roma Accontentiamoci Al fate bene i fratelli Perché dovete sapere Che a Fiumicino Non c'è l'ospedale Quindi tutti quelli Di Fiumicino Nascono al Grassi O al fate bene i fratelli O al fate bene i fratelli Tu sei nato Danilo Al fate bene i fratelli Come me Ma c'è un cazzo Il problema Siamo figli del Tevere Non è che siamo fratelli No No Non sembra Guarda Purtroppo per me Non sembra Perché hai scelto Pupo Che sta cosa è bella Come brano de core Cioè Se tu pensi Dici qual è Prendi Diciamo La musica italiana Ti immagini Pupo e Junior Kelly Li immagini molto lontani Tra loro È come di Che ne so Alan Sorrenti E Kedama Sì esatto No allora Per due motivi Il primo è che Chiunque stò in discoteca Sa che per chiudere le serate Comunque sia Ci sta sempre O 50 special O su di noi O già dal cioccolato Comunque sia Ci mettono per chiudere la serata Come per dire Oh sto mettendo sta canzone Divertitevi Date tutto adesso Svuota pista Si chiama Che però in realtà Non è più svuota Cioè perché Se ne vanno no Fanno talmente tanto casino Con quel brano lì Che poi della serata Te ne va a fanculo Questo qui Ma una certa lì Perché non l'ho messo Tutta la sera Esatto Esatto No E quindi mi ricorda Un bel momento Perché dico Cioè Il fine serata Era per pochi In pochi riuscivano A arrivare A fine serata In discoteca A fine cinque mattina A Roma Che poi dovevi tornare A Fiumicino Cioè Non era per molti Non era per tutti E poi ho avuto E poi ho avuto anche L'onore Perché Pupo è Lo zio della mia fidanzata E quindi l'ho conosciuto E niente Si è stato Un bel rapporto Inoltre È anche È anche stato Pensa Pupo Alla mia festa Del mio primissimo disco A Rocket di Milano Perché il mio manager Era lo stesso De Pupo De Enzo E quindi C'è un bel ricordo De Enzo In tutto Per quello Per quello Che l'ho conosciuto Fino ad oggi Poi si è installato Anche Un rapporto incredibile Extra lavoro Cioè Siamo amici E E mi ricorda Delle serate incredibili In discoteca Poi è una hit Di che cazzo stiamo a parlare Che una persona Poi veramente Rock and roll Rock and roll Per davvero Per davvero Per davvero Mica per cazzi Forti di questa Diciamo Parentela acquisita Ci sentiamo di mandare Un appello Perché a noi ci piace tanto Mandare agli appelli Noi facciamo queste clip Che raggiungono Anche milioni Di visualizzazioni E quindi Sembra assurdo Ma è vero E quindi pensiamo Che in qualche modo Possa arrivare A chi A case discografiche Possa arrivare A Ai potenti mezzi Della musica italiana Ma questo lo diciamo Direttamente a Pupo Pupo Il nostro sogno Sarebbe Vedere un featuring Pupo Fit Junior Kelly Impazzirei totalmente Sarebbe veramente Bello Quindi noi ti mandiamo Questo messaggio Ma dovrebbe essere fatto In assoluto Proprio A prescindere Vorremmo al prossimo Sanremo Pupo E Junior Kelly Questo lo diciamo A quello che sarà Il prossimo Direttore artistico Di Sanremo Che non si sa Chi sarà Secondo me Pino Insegno Hai detto Junior Kelly E Sanremo Che sono diventate Due cose Totalmente Cioè Hai nominato Due mondi a parte Altro che me Pupo Mondi a parte Dopo l'ultimo Sanremo Penso che io Sanremo Io dico sempre E quindi Non volendo Entriamo Nell'argomento Sanremo Perché Ricordiamo Che tu Hai partecipato A Sanremo In che anno? Nel 2020 2020 Un mese Prima del Covid Il 2020 È ricordato Come l'anno Di Junior Kelly E della lite Tra Buco E Morgan Perché Questo È stato Forse Secondo me È stato uno Dei Sanremo Più belli Degli ultimi Dieci anni Per me no Non te lo dico Per me Un po' meno Per me Da spettatore Io sono un appassionato Di Sanremo Uno dei più belli Degli ultimi Dieci anni In assoluto Grazie Danilo Ma non per me In generale No no Anche per te Io ho detto Io ho vissuto In pieno La tua polemica A Fiumicino Quindi Purtroppo Da spettatore Ma so goduta Però capisco Che in prima persona La vogliamo raccontare In breve Cioè cosa era successo E perché si erano alzate Tante polemiche Nei confronti Della tua canzone Che problematiche Erano nate anche Mi pare in particolare Con la destra Allora Vabbè che tu Vabbè che ti sei presentato A Sanremo Con la maschera No 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 Era la prima volta C'era la maschera anti-covid Ah bravo Bravo Sì sì Già mi ero messo La maschera anti-covid Perché oltreoceano Ho visto Bad Bunny e Billy Irish Che già la mettevano Ho detto sai che Magari me la metto A fare un po' di hype Porca miseria Hanno chiuso il mondo Dopo due settimane Era quella con gli svaroschi Esatto Quella con le pietrine Con le pietrine Ah non si Tagliamo la parte svaroschi Perché comunque È pubblicità Non dobbiamo fare pubblicità Quella con le pietrine C'avevi Ma esiste ancora Sta maschera È certo Ma la sono ottenuta Ce l'hai ancora È certo Cioè la venderessi La metteressi all'asta Ti posso dire Che per un sacco Ho pensato No ma oh Mi sa di sì Mi sa che la venderei Ma tu ce l'hai Mo' a casa Io ho la maschera De Junior Kelly Dove state La maschera Cioè la maschera Di Sanremo Stanno in un cassetto Nelle mutande Adesso ce l'ho qua Adosso Al posto delle mutande Ce l'ho ora Non lo so dov'è Non lo so Le maschere Quelle che non valgono nulla So perfettamente Dove sono Collocate in tutta Italia Quella maschera lì Adesso non saprei dirti Dov'è Ma lo sai perché Danilo Te lo chiede Perché lui è un fan De memorabilia Se tu hai la fortuna Di essere invitato A cena A casa di Danilo Verso Selva Nera Da quelle parti là E poi a un certo punto Della sera Visto che comunque Con Danilo Solitamente si beve E hai bisogno Di andare in bagno Se tu vai in bagno A casa di Danilo E a un certo punto Vedi una chitarra elettrica Con una firma Nell'antibagno De casa di Danilo Da Fiumicino C'è la prima chitarra elettrica De Max Spezzali Firmata da lui Autografata da Max Spezzali Non si sa perché Ma sta lì Quindi secondo me Lui in questo antibagno Punta ad avere anche La mascherina Del Junior Kelly Lo sai Max Spezzali Ha visto questa chitarra In una mia story E mi ha scritto In privato E mi ha scritto Che cazzo ce fa La mia chitarra A casa tua Cioè capito Ma io l'ho presa Un'asta regolare Quindi Lui l'ha messa all'asta Io l'ho comprata Però la maschera Del Junior Kelly Io la comprirei Però a me piaceva Quella Quella diciamo Integrale Quella te ne do una Quella te ne do Che me frega L'ho detto Lo faccio Io me la prendo E la prossima puntata Del podcast Danilo Da Fiumicino Lo farà Con la maschera Anticast Del Junior Kelly Tosta parla Ci ho fatto un botto De live E tosta Canta con quella roba addosso Famo che te la porti qua La fai vedere Poi dopo La metti da parte Comunque a Sanremo Tu cantavi live Con la mascherina No 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 Senza Senza Ma tu lo sei visto A Sanremo No non mi ricordo C'ho qualche dubbio Secondo me Si ha visto un cazzo Il motivo per cui Mi sono scusato All'inizio Lui per buco Dov'è Junior Kelly No quel Sanremo lì Quale fu il problema De quel Sanremo Io scrissi Cioè scrissi Poi non è una rima Io ho fatto un sacco Di canzoni Prima di arrivare a Sanremo Il problema qual è Che Hanno preso Allora Mi ricordo perfettamente Su Twitter Cerco di fartela breve Perché se no Parliamo un'ora Su Twitter L'hashtag di tendenza era Chi è Junior Kelly Perché comunque sia Nessuno Dei Fan In quel momento Di Sanremo Sapevano chi cazzo fossi io Ma ce sta Io andavo lì da outsider Io ho detto Che bello Nessuno sa chi cazzo sono Prendo Arrivo sul palco Porto il mio brano E mi faccio conoscere A un pubblico più ampio Tant'è vero Che alla presentazione Con Amadeus Quando Ha presentato gli ospiti Io ci avevo scritto Chi è Junior Kelly Sulla giacca di pelle Il 16 gennaio Pensate Mi ricordo pure il giorno Uscirono i testi Su TV Sorrisi e Canzoni Se non sbaglio Quindi erano disponibili a tutti I giornalisti Hanno visto I testi E io insieme al rancore Prendemmo i voti più alti Della critica Il problema qual è? Che era un testo Contro la politica in generale Non è che poi Andava contro Destra o sinistra Andava contro tutto Ok Ho riletto da poco Il testo Prima dell'intervista C'è un passaggio Dove Molto importante Dove parli Sia della destra Che della sinistra Esatto Però c'è sta pure Quella parte Dove dico Spero si capisca Che odio il razzista Che pensa Il paese Ma è meglio il mojito Sappiamo tutti Di chi parlavo E che stava Il mojito Era un riferimento Al papete Esattamente Esattamente Detto ciò Da quel giorno Da chi è Junior Kelly Siamo passati a Ah Junior Kelly Lo conosciamo bene Si sono andati a leggere Tutti i testi E ne hanno preso uno Incriminato Che si intitolava Strega Precisamente Dove c'erano Rime un po' spinte Ma Chi Quanti artisti conosci Quanti ne hai conosciuti Quanti ne hai intervistati Sì sì Cioè tutti gli artisti Voi lo sapete Prendono ispirazione Da film Da storie di altri Non è che tutto Quello che dice Un cantante Poi è Quello che ha fatto Cioè io posso aver visto Arancia Meccanica E poi metterlo in rima Cioè Invece quella rima lì Fu presa proprio Di mira E iniziarono Ad accusarmi di Istigazione alla violenza Sulle donne Quindi da Chi è Junior Kelly A Junior Kelly Sì lo sappiamo chi è È quello che Uccide le donne Cioè Diventò esattamente Questa cosa qua Nemico pubblico Numero uno Da un secondo Cioè Secondo prima Chi è Junior Kelly Secondo dopo Killer di donne Cioè hai capito? Ma questa cosa A parte la 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 polemica Politica O la polemica Di quel momento C'ha avuto un riscontro Per te anche Nei confronti Dell'agente comune? Assolutamente sì Secondo me Ma ti spiego anche perché Perché la gente Non si Cioè Si limita A leggere Il titolo Sta lì Legge il titolo Però non è che va a fondo Non è che Io ti parlo di quello Che mi è successo a me Non è che Alcuno che mi ha incontrato Per strada Ti ha detto Tu scrivi testi Contro le donne Questo ti è successo Dopo che loro Hanno messo lì Assolutamente sì Ma Addirittura Ho anche però Persone Che intelligentemente Mi hanno criticato In quel momento Perché ferme sul titolo Poi sono andate a fondo E si sono rese conto Che Cioè Era una guerra Che doveva essere fatta In quel momento Perché io portavo Sul palco Di Sanremo Una canzone Che era contro la politica E quindi Qualcuno che si è ricreduto C'è stato Però tanta gente Si è limitata a quello Quindi Poi da lì Chiudono tutto Chiudono Immediatamente Dopo Sanremo L'ultimo ricordo mio Di quel tempo lì Era Junior Kelly L'assassino delle donne Cioè capisci Che poi parliamo Di un brano Che non è manco mai Stato pubblicato Discograficamente Io non ho mai Neanche guadagnato Un euro Su quel brano lì Cioè Veramente Non ho mai guadagnato Un euro Stava su Youtube Erano quelle canzoni Che A quel tempo lì Nel 2018 Uno faceva Faceva il videoclip Andava tanto Il videoclip Neanche Spotify Cioè Spotify Non c'è quella canzone Margie Cabula È stata la mia Prima canzone Su Spotify Fai canzone Fai video Uscivi con videoclip Al mese La buttavi lì Io quindi Quella canzone Che mi ha incriminato Come Isticatore al femminicidio Non ci ho manco Mai guadagnato un euro Perché era proprio Una canzone Messa lì Punto e basta Faccio rap Questo è Junior Kelly Questo è il personaggio Con la maschera Racconto 3000 cose Ma poi a maggior ragione C'era la maschera Neanche ero Antonio In quel momento lì Cioè capito Proprio Era proprio L'alter ego A 300 all'ora Quindi Sanremo Ti ha portato Una grossa polemica Nei confronti Dei discorsi In relazione Delle donne Ti ha portato Anche una grandissima Visibilità però Anche tanti soldi Secondo me La peggio cosa Che ti è successa A Sanremo È che sei arrivato Penultimo E non ultimo È vero Chi è arrivato ultimo Ma potevo diventare ultimo Sarebbe stato ancora meglio Diventavo proprio ultimo Il cantante Era proprio top No dici penultimo Diventare ultimo In quel momento Chi era arrivato ultimo Ti ricordi Ricky me sembra Perché Ricky E vabbè Buco e Morgan Squalificati Pensa L'Ettra Lamborghini È arrivata prima di me Pensa te Pensa te Dico non perché Però È arrivata prima di me Non mi ricordo Che è la musica Mi sa la canzone La musica Il resto scompare Pensa che Adesso è uscita Un'intervista Della Lamborghini In cui ha dichiarato Che si è pentita Dei tatuaggi Che si è fatta Quelli sulle chiappe Dovvero? Ho letto solo il titolo Ho fatto come Ma lei L'ho fatto come Quelli là di Sanremo Ah questo qui Tu c'hai qualche Tatuaggio Di cui Ti sei pentito No no Non mi sono pentito Di nulla Anche quelli Di come mi sono pentito Mi li tengo Per ricordarmi De quanto so Coglione Capito Non c'hai le chiappe Leopardate No Tu No Purtroppo no Ancora no Però ci posso pensare Magari Può essere un'idea Comunque Elettra Lamborghini L'ho conosciuta A Sanremo Cioè È proprio la numero uno Cioè Tanti vedo che ne parlano Chissà Come fa Destra Se la tira De qua Cioè Credetemi È la numero uno Una delle persone più umili Che abbia mai conosciuto All'interno dell'ambiente Anche lei non penso Che Ci abbia avuto Questa grandissima Esperienza positiva In Sanremo Però la canzone È andata bene dopo Capito La mia invece È stato massacrato Sotto tutti i punti di vista La gente non era più Junior Kelly Ascoltava la canzone Junior Kelly Asi quello che ammazza le donne Però dopo Sanremo Diciamo I tuoi concerti Erano più nutriti Ma non ho fatti più Perché c'è stato il Covid Esatto Io Il mio primo concerto Dopo il festival È stato Con l'ultimo disco Che ho fatto Alcatraz Milano E Largo Venue a Roma Largo Venue un po' più piccolino Rispetto all'Alcatraz Però devo dire Sono rimasto basito Perché io mi aspettavo Molta meno gente Io ho sempre uno che tende a Ad essere realista Con se stesso Quindi io Mi aspettavo veramente Un buco nell'acqua Perché dico Esco con un disco Dopo Sanremo Dei due anni prima Dico Cazzo Che cazzo viene Al live mio Invece devo dire C'è l'Alcatraz È stato Pazzesco Roma Posto più piccolo Ma comunque sia Cioè È stata una figata Secondo me Non ho preso però Qualcosa da quel Sanremo La gente che era In quei live lì Era la gente Che c'avevo già da prima Cioè la gente Mi seguiva da prima Sanremo Non che l'ho presa dopo E questa è una cosa Molto interessante In relazione anche a Sanremo L'abbiamo un po' Nominata La maschera Ci dici perché Mettersi la maschera Quando ti è venuta in mente Sta cosa Perché togliersela Come ti è venuta in mente L'idea della maschera Anticas E adesso Come vivi senza maschera Il palco La musica E i concerti La maschera In realtà Guarda Io Ho iniziato a fare canzoni Da piccolissimo Quindi davvero Da quando ho 14 anni Come dicevo prima Però Appena faccio una canzone Nel paese Era Sì Ergue Pechegno Dei poveri Capito Cioè in automatico Il rap non era visto bene Cioè era visto come una cosa Se non ho sfigato Fai rap Cioè sei un coglione Non sei uno figo Non sei uno che Ho sempre detto Quando sono cresciuto Che è più facile Distruggere il sogno Di un altro Piuttosto che Crearsene uno proprio Dico È molto più immediato La critica Che Dire Oh mi raccomando Certo Certo 13 Spacca È molto più facile Di dire Se non sfigare Tanto non ce la fai Te costa un cazzo Dillo Io loro ho detto Secondo me Spacco Cioè me lo dicevo da solo Dico Ero il mio unico fan Ok Secondo me Spacco Io mi metto una maschera Sparisco dai radar Di sto paese del cazzo In quel momento Perché comunque sia Paese del cazzo Per te È riferito Al territorio In cui stavi Sì Sì Fiumicino Che dall'altra parte Però anche un po' Il tuo luogo del cuore Esatto 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 Esattamente Esattamente Pia vendute In un anno Quindi allora ho detto Cazzo Allora vedi Tanto scemo Non ero Al microfono Quindi magari sarà più che C'avevo bisogno Di uscire un attimo Dal contesto Non so se è stata soltanto La maschera O allontanarmi Perché ho iniziato A frequentare Roma Ho iniziato ad uscire a Roma Vivendo a Garbadella Ho lasciato proprio Perdere il paese Cioè proprio Basta Non c'avevo proprio più Contatti con nessuno Tranne che con qualche Persona E dicevo Guarda Mi sto inventando Però tu prima Ci hai detto Che questa cosa Della maschera È ciclica Secondo me lo era Quando ho deciso Di metterla L'ho pensato Ho detto Quando l'ho indossato Ho detto Sei anni prima C'era Salmo Tre anni dopo C'era mezzo Mezzo sangue Tre anni dopo Toccherà qualcun altro Quell'anno lì L'ho messa io Due mesi dopo Esce liberato Col primo singolo Che poi Fortuna per me Perché fuori classe Fuori classe Tutto il progetto Faceva un altro genere Se no Sarei passato In sordina Cento per cento Ripeto Sono molto realista Ricordiamo che uno Dei primi A mettersi La maschera In Italia Qui so So vecchio A di sta cosa Era anonimo italiano Non so Se te lo ricordi Sono ignorante io Faceva Diciamo Era Imitava Claudio Baglioni E c'aveva Sta maschera Che sembrava Il fantasma Dell'opera Però poi penso Che non abbia mai Svelato l'identità Era lo stesso Claudio Baglioni Sotto Era sempre lui Che imitava Se stesso C'aveva una voce Molto simile E per chiudere Perché me la son tolta Esatto Perché Allora Io non ci ho mai avuto problemi Finché non mi sono attatuato le mani Però aspetta Come La storia della maschera Come funzionava Cioè Tu andavi in scena Sia nei Diciamo Negli spettacoli live Nei video Sempre Sempre Io uscivo solo Ed esclusivamente di casa O in van Con il mio team Quindi Che già mi conosceva O con la maschera Io non uscivo più Non potevo più andare a cena Non potevo più andare in discoteca Mi ricordo una volta Mi ha invitato Al compleanno Nerone Cioè tu veramente hai vissuto il covid Io da molto Sto a vivere sto covid Penso che quando me la son tolta Se la son messa all'arte La maschera Incredibile sta storia No Io mi ho invitato al compleanno Nerone Un mio amico mi scrive Fa Occhio Perché sei in una storia di Nerone Io ho dovuto chiedere a Max Gentilmente Togliere la storia In quel momento Ho detto O non esco O capisco come toglie me Sta maschera del cazzo Perché se no Non Cioè era diventato opprimente Non potevo neanche stringere un rapporto D'amicizia Con gli addetti a lavori I colleghi Le tipe Come ho detto prima Dovevo stare attento alla qualunque Io andavo al bar Con il tatuaggio Facevo colazione E mi dicevano Guarda che la colazione T'ha pagata Ragazzo Del bar Ho fatto scusa Ma perché Dice che ti ha riconosciuto Al tatuaggio Poi La cosa più brutta Che mi è successa È che mentre io Ho già deciso Di togliermi la maschera Ma hanno Una persona Ha trovato una mia foto Senza maschera Dove si vedeva il tatuaggio Sul collo Che io comunque Ce l'ho sotto la camicia Sotto questo che c'ho sotto Ma l'ho fatto Sotto la camicia Perché ho detto Ancora non faccio rap Dico se poi devo andare A chiedere lavoro a qualcuno Il tatuaggio non era Visto come adesso Un po' di tempo fa E sta persona qua Mi ha ricattato Mi aveva chiesto 8 mila euro Per togliere La mia foto Poi tramite Una persona Che conosceva quest'altra Sono riuscito a cavarmela Ma nel frattempo Io avevo già preparato Una gigantografia Una maxi affissione Di 220 metri quadri In Monte Napoleone Con Sony Dove c'era prima la maschera E poi io senza maschera Quindi io Mi sono proprio cagato addosso Perché dico Sta a vedere che Sto stronzo mi smaschera Ancora prima Che lo dovevo fare io Già l'avevo deciso Lì è stata proprio la volta In cui ho detto Ho preso la scelta giusta Perché non è più vita Cioè prima o poi Qualcuno me l'avrebbe tolta Capito? Te la sei voluta Leva da solo E adesso affronti Diciamo Da quando te la sei tolta Sta un po' più a cuore leggero Molto di più Cioè in senso Allora Subito dopo Sanremo Ho vissuto il contraccolpo Perché Tu pensa che Me la sono tolta A settembre 2019 Io a gennaio 2020 Stavo sul palco di Sanremo Quindi da che non mi conosceva nessuno Io quell'estate lì Non potevo manco più andare al mare Cioè perché c'era la gente Che stava a dormire Mi svegliavo Stavano lì col telefono pronti Ma De tutte le età Che poi fa sempre piacere Per carità E grazie a loro Se io faccio il cantante Grazie a chi mi segue Però L'ho subita quella roba lì Cioè il cambio è stato repentino Da Da zero a A mille Ad oggi me la vivo molto bene Cioè Ma me la vivo bene in generale La musica Dopo tutti i problemi che ho avuto L'alcol De Sanremo Cioè dopo Per colpa di Sanremo L'alcol Mille cazzi Cioè Ho fatto un rehab Veramente Ho passato tutti i colori Ero arrivato a pesare 90 kg Per colpa di quale dipendenza Quindi ad oggi Mi sento proprio sereno In tutto quello che faccio Anche la musica Me la vivo molto più con passione E meno con ossessione Ci sentiamo un brano Che hai scelto E poi magari parliamo Di questa cosa Che hai appena accennato Un altro brano Decore Scelto da Junior Kelly E ha scelto tutte cose De una volta E quindi Ci piace Perché un po' ci stupisce E L'obiettivo di questa trasmissione È proprio questo Scoprire i lati nascosti Le cose che non diresti Magari pensi Che nella playlist Junior Kelly C'è tutto rap C'è tutta trap Pensi che quando va a correre Nelle cuffiette C'ha solo Che ne so C'ha su di noi Kendrick Lamarro Travis Scott E invece Dentro le cuffiette Junior Kelly Trovate anche questo pezzo Piaciuta tantissimo La canzone È stata ballata Qui a Parco Appio Bravi ragazzi Bravi Bravi Ottimo Io ho una domanda Questo è il tasto Delle domande Si sente? Si sente Si sente È il tasto Delle domande Scomode Le domande Di Danilo Da Fiumicino Non ne ho fatte Questa sera Perché Mi piaceva molto La chiacchierata Quindi Ero preso Dalla chiacchierata C'ho questa domanda Da farti Sempre a proposito Dei tatuaggi Io sono molto Attratto Dalle persone tatuate Perché Io ho Un solo tatuaggio Che ho fatto Durante un compleanno Ed eri ubriaco Ed eri ubriaco Quindi Non ho tatuaggi Tu sei obbligato A scegliere Per forza Non mi chiedere perché Però Sono obbligato A scegliere Per forza Uno di questi tatuaggi Da fare sul petto C'hai spazio ancora No Vabbè Lo fai Sulla pancia Ne togliamo Ne togliamo Uno che ce n'hai E devi mettere questo Allora il primo Un cuore Con dentro scritto Fedez TVP Capito? Urlo La scritta Carbonara Mi fa schifo Oppure L'altra scritta Evviva il reggaeton Una Una di queste tre cose Devi fare E perché proprio Fedez TVP Perché no Che rapporto c'è Tra te e Fedez? Mai coperto Cioè nel senso Non ho mai Mai conosciuto Ah no è vero L'ho conosciuto X Factor Io ho fatto lo Strafactor insieme a Pupo Pensa C'era anche lui Ma non ci siamo manco parlati Pensa che anch'io Ho fatto un Extra Factor Io no ragazzi Vi chiedo scusa Non sono ricorda Non l'ha visto Neanche mia madre Quello però L'ho fatto insieme Insieme ad Achille Lauro Io tu con Pupo Quindi è strano No Con uno di questi Tre Il terzo qual'era? Evviva il reggaeton Ma forse mi farei Evviva il reggaeton Te dico la verità Perché mi fa schifo La Carbonara Eh non si può dire No non si può dire Fedez TVB Stavo là Non ce sa 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 È una provocatoria Esatto Mentre invece Di avere che tol Forse me lo faccio Forse me lo faccio Te do sta notizia Se te lo fai Anche piccolino Potrebbe essere un sogno Che sa vera Per Decore Ma dai lo prometto Lo prometto in camera Quando vado a tatuarmi La prossima volta Oddio dal tuo tavolo Ti hanno guardato malissimo No no Me lo faccio Piccolina abbiamo detto E anche piccolino Evviva il reggaeton Ma dentro il cuore Sì Dentro il cuore Beh Cazzo Sto cuore quanto deve essere piccolo Vabbè allora senza cuore Evviva il reggaeton Mi scrivo dai Che bello Ma lo faccio Promessa Promessa per Decore È un sogno che sa vera Perché stasera Siamo riusciti A far cambiare il wikipedia De Junior Kelly Siamo riusciti finalmente A far fare un tatuaggio assurdo Tra quelli De Tito Danilo Forse è la puntata più bella Possiamo anche spegne tutto E andando a casa Invece è sempre Domanda stupida Che domanda Ti hanno mai proposto Cioè non so come funziona Di far uscire un tormentone Di questi già programmati E se lo dovessi fare Con chi lo faresti Ma a livello di Di cantante anziana però Però donna Hai visto? Mò vanno di moda questi con Tipo Prometi fa qualche esempio Tipo guarda io c'ho un po' C'ho un po' di nomi qua Non so se sono No sono vivi dai Iva Zanicchi Tipo Gigliola Cinquetti C'è Gigliola Cinquetti Sempre Cinquetti Dani Questo se ne la portavo avanti Dalla puntata di Ketama Non hai Continua a fare lo stesso Milva Milva c'è ancora Sì Penso di sì Non nomino Rita Pavone è fuori Rita Pavone ha fatto Sanremo Mio E c'ho la risposta Perché tutti lo vorrebbero fare Anche Ketama vorrebbe fare il duetto Con Rita Pavone Lina ormai se l'è presa a blanco Chi c'è rimasto? Dateci Dicono Rietta Berti Ma Rietta Berti È facile È facile di Rietta Berti Ma l'ha fatto No io ti rispondo subito Rita Pavone C'è tanto perché eravamo vicini Se non sbaglio nella foto Di Busto Risi e Canzoni Perché cosa è stato spacca? Io Rita Pavone Junior Kelly Mi ricordo Un commento Che io c'avevo una maschera Che mi copriva nella foto Di Busto Risi e Canzoni E era accanto a Rita Pavone E tipo Scritto Resident Evil Una roba del genere Cioè ce l'hanno preso Tipo per un gioco Dalla Play Capito? Veramente Ce l'hanno tipo Paragonato a un gioco Dalla Play Non mi ricordo Però lo farei con Rita Pavone Lo farei con lei Bello però Ma dov'essi obbligato No a fare il tormentone Sì Ok No ma lo devi fare Cioè nel senso Un'altra Sai che bello Se mo Il prossimo anno Esce il tormentone Dell'estate di Junior Kelly Corita Pavone Corita Pavone Mamma mia Bella per Rita Pavone Massimo io ben a tutti Basta Lì veramente Mi ritiro dalle scene Cioè faccio un favore Forse pure io Forse pure lei anzi Perché io è facile E mi ce li tiro Lei ma guarda Che è più facile che lei Mi dice di no Che io a lei Ti do sta notizia Uscendo dalle domande fondamentali di Danilo Che comunque So proprio L'elemento portante del podcast La struttura So proprio Quell'elemento che Senza non potremmo fare a meno No Uscendo dal discorso Che facevamo prima Su Sanremo Hai accennato al fatto Che comunque C'è avuto un problema Con l'alcol Sì E mentre ci prendevamo La birra Prima della cosa Mi hai detto Io comunque Me la voglio beve una birra Qua davanti a tutti Perché adesso La so gestire E' bello Godesse le cose Contestualizzarle E saperle riportare In una dimensione Conviviale Non essere Non essere più schiavi D'esta cosa qua E' una cosa bellissima Perché è la dimostrazione Di un successo Di una soluzione Di un problema E probabilmente Come sempre La soluzione del problema Sta nel problema stesso Cioè nel sapersi gestire Questa cosa Esatto E' bello il fatto Che tu Io te lo chiedo Perché mi hai detto Che ne potevamo parlare Sì sì Assolutamente Perché altrimenti Non sarei mai Andato a mettere il dito Nella piaga Su una cosa Che magari è stata Per te una difficoltà Perché questo Non è belve E non è Un'intervista Che cerca di mettere In difficoltà L'ospite Anzi Vuole parlare Delle cose Che lo fanno stare bene Probabilmente Il fatto che tu hai risolto Questo problema E' una cosa Che ti fa stare bene Una cosa decore per te Esattamente Guarda proprio venendo qua Dicevo ai miei amici Che stavano in macchina Dicevo oggi Voglio proprio parlare Di questa roba Perché vedendo i vostri video Ho proprio sentito Quella roba Di Non so Di comfort zone Cioè proprio E questo E' un complimento Che vi faccio io E già ve l'ho detto prima Che secondo me Tutto quello che avete fatto Spacca tantissimo Grazie Grazie di cuore E quando ho visto I vostri video Ho detto Sai che c'è Che oggi Mi farò una birra Mentre mi intervistano Perché Non vorrei neanche Che Cioè a volte Uno dice C'ho avuto Un sacco di cazzi Io dopo Sanremo Mi sono ritrovato Senza fa niente Tutte le critiche dietro Mi facevo Otto bottiglie De Amarone De Barolo Al giorno da solo Per poi continuare Con 12 grapp Cioè tutti i giorni Cioè una roba Veramente Era arrivata a pesare 89 kg Cioè tu me vedi adesso 89 kg Eravamo arrivati In un punto E non ritorno Poi Tante cose Mi hanno fatto Cambio idea Prima in assoluto La mia fidanzata Che a un certo punto Mi ha detto Senti Chico O ti fai aiutare O io e te Abbiamo una vita breve E quella è stata Una cosa importante Per me Perché Cioè è stata fondamentale Lei E tuttora lo è Quindi È grazie a lei Soprattutto che ho iniziato A crederci ancora di più A voler migliorarmi E cercare di Guarire Dico guarire Ma poi Sai che Sono talmente delicate Quelle cose Che Fino in fondo Non riesci mai A superarle Cioè comunque sia Un demone Che rimane Però deve partire da noi La voglia di migliorarsi E E ho detto Cazzo Prendo un attimo La mia vita in mano Perché Io sarei morto Cento per cento Ero arrivato Veramente a dei limiti Di 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 alcol Senza senso Non era possibile Non era possibile Quello che facevo Tutti i giorni Dalla mattina Alla sera Ovviamente poi Con Con Col dovuto Percorso Ho capito che Era dovuto Da tantissime cose Una fra queste Sanremo In assoluto Perché comunque sia Psicologicamente Per me quella sarebbe stata Un'occasione Per farmi conoscere E godermi Cioè Era tipo un trionfo No Dico cazzo Da focene Mi sono inventato Sta roba Da maschera Tutti mi piavano per culo Mo Me la so tolta Arriva sta occasione Avevo fatto un incidente Un mese e mezzo Prima Con la macchina Ho stato Un mese e mezzo Sua sete a rotelle Corbusto Guidava il mio amico Che sta qui A guardarci C'è stata una roba Terrificante Mi chiamano E mi dicono Guarda che Sei dentro Ci ho detto Cazzo Ma vado lì È la mia rivincita In assoluto Dall'inizio della musica E anche per il momento Che sto vivendo E poi mi sono visto Togliere tutto quanto In primis Da tutto quel casino Di cui abbiamo parlato prima E in un secondo momento Dal covid Io mi sono ritrovato da solo Pieno dei sordi Perché comunque sia Rispetto a me Che avevo le scarpe bucate Fino a Tre anni prima Non c'avevo una lira Rubavo Lo dico senza vergogna Tornarsi indietro Non lo rifarei Però l'ho fatto Mi ritrovo qua Pieno dei sordi Senza un cazzo Dico ma come cazzo È possibile Cioè Parto da zero Arrivo a mille Sanremo Bam Niente Non esiste più nulla Sia per casino Sia per covid E sono totalmente impazzito Cioè proprio Sono diventato una trottola Pensa che io dicevo Cascasse il mondo Io st'estate faccio il panico Cioè pensavo questo St'estate comunque me la goto Eramo io e i miei amici Eramo delle trottole Veramente come dicevi te Se parlava soltanto De me a Fiumicino Perché ho fatto De quelle cose De quei danni Ma avvera tutto il comune Ho messo sotto Sopra Lo sai che dicevo L'amica Dicevo Senti andiamo a dar fastidio A Freggene Andiamo a dar fastidio A Fiumicino Andiamo a dar fastidio A Maccarese Andiamo a dar fastidio A Ladispoli Andiamo a dar fastidio A Passo Scuro Facciamo tutto il tour dei bar Era una roba Veramente impressionante Quando arrivavamo noi C'erano paura Non dico cazzate E comunque sia Noi eravamo tranquilli Tendenzialmente Però bevevamo talmente tanto Tutti i giorni Cioè amici miei Non rischiamo di perdere il lavoro Perché Porca miseria Avevo preso una villa In affitto a Freggene Da 15 mila euro al mese Con 12 posti letto Ero da solo Cioè capisci Avevo proprio Il trip Della superstar Ma non perché Mi sentivo una superstar Perché dicevo Cazzo Mi hanno tolto tutto E quindi Non me lo riprendo Con gli interessi 15 mila euro al mese De villa Amici miei arrivavano Controller Venerdì E se ne andavano lunedì A lavorare Io non so Certi si prendevano ferie A lunedì Te lo giuro Andavo a ballare La domenica Stanno a ridere Andavo a ballare La domenica L'amico mio mi diceva Io prendo ferie Cioè era riuscito A prendere ferie Amici miei Ma io in tutto questo Do stavo A Roma No Detto questo Poi uno Ci ride E c'è scherza Però E so d'accordo Perché ci rido Tutto ora io Se ci ripenso Tornassi indietro Dico sempre Lo rifarei Perché grazie a quelle Cazzate lì Io oggi mi sento Veramente un uomo migliore Sotto tutti i punti di vista Ho intrapreso un percorso Mi sono fatto aiutare Mi sono aiutato C'ho l'amore Della mia vita a fianco Ho tutto sotto controllo Nel senso buono E non me ne frega più Un cazzo Dell'insuccesso Del fallimento Già mi è capitato A me Mo esco con la canzone Va de merda Mi dispiace sì Ma non ce sto male Da venarmi l'anima Mi sono reinventato Ancora una volta E sono riuscito Ancora una volta Da un fallimento Quindi non me ne frega Un cazzo La vivo tendenzialmente A pensare ogni giorno Che io posso fare qualcosa De positivo E de bello Nuovamente da capo Senza star a pensare L'insuccesso del mese prima Dell'anno prima Che cazzo sto a fare Tutto il giorno in studio A pensare A fare una hit A tutti i costi E perdo tempo Cioè cazzo Io stavo per morire Un altro po' Non moro Per l'alcol Mi faccio aiutare Dico Ancora perde tempo Appresso a ste robe qui Assolutamente no Ed è lo stesso motivo Per cui oggi Mi bevo Con sta birra Davanti a voi Proprio per sfadastomito Che già lo so Che arriverà Il boomer de turno O un ragazzino Rompicazzo Che scriverà Oh com'è Non avevi smesso De beve Il rehab De qua Cioè Ma vattene affanculo Non me ne frega un cazzo Tanto lo so io Capito La vivo proprio diversamente Tanto i social Sono la palestra Dei frustrati Gli ero del culo Tutto il giorno Perché fanno Il lavoro de merda Non so felici Aprono Instagram E dicono Lo sai che c'è Mi metto a insultare Uno a caso Perché è molto più facile Insultare Torniamo al discorso prima Che Dio Guarda che è stata spacca È più facile Guarda che questo è un podcast De merda Nei commenti te parlo Piuttosto che invece Lasciare il commento Oh raga Spaccare tutto So sicuro che anche voi I commenti positivi Li ricevete in privato La maggior parte No no Ditemi se sbaglio È così È così Ok Quindi dico Sono arrivato a sto momento qua Mi stavo pa' ammazzare Basta Fine dalla storia Me la bevo qua Perché ho imparato A condividere Io oggi me la posso fa Una birra Due birre Me le posso fa Sto fra amici Ho imparato a gestire Cioè il modo in cui bere Capito Prima io non bevevo Per l'alcol E basta Mi piaceva anche Per carità divina Ma bevevo per altri motivi Ad oggi invece Io sta birra Ma la so fatta con voi Perché sto bene Non perché sto male E sto problema dell'alcol Come si risolve Come l'hai risolto Se ci dovesse Ascoltare qualcuno Che sto problema Ce l'ha Come si risolve Allora Io Parlo Parlo di me chiaramente Non sono un Un professionista Del settore Assolutamente Anzi Io sto in terapia Da quando ho 18 anni Comunque sia Ho fatto terapia Dai 18 Fino ai 22 Per una Presunta leucemia Che mi hanno diagnosticato A 14 anni Ho dovuto molla tutto Il calcio Qualsiasi sport di contatto Perché avevo Le ste piastrine basse E il primo campanile allarme Era appunto Sta presunta leucemia Quindi Parti con tutti i controlli Reparto oncologico E non mi sto qua di lunga Perché comunque È una bella serata Non mi voglio neanche far Ritornare a me Determinati pensieri E io mi sono fatto seguire Io Il consiglio che do a tutti è Cercate un professionista Cercate uno Un psicologo Parlatene Parlatene Il primo passo è sempre parlare Se c'è dei problemi E poi dopo da lì Chiaramente devi essere sempre Prima te che lo vuoi Capito Non è che Non è che può arrivare uno Cioè per dirti A me tante volte Le persone mi hanno detto Lascia perdere la mia fidanzata di oggi Che quel giorno me l'ha detto E lo sono stato a sentire Ma tante persone Prima mi hanno detto Guarda che bevi troppo E io ti ho sempre detto Ma me caga il cazzo Anzi se non bevi Sei infame Pensa come cazzo ragionavo Capito Come i pazzi Finché non lo decidiamo noi Di farci aiutare Non arriverai mai A far quel passo lì Quindi secondo me Consiglio primo In assoluto È Cercare qualcuno Un professionista Che Che possa Esservi d'aiuto Quindi sfogarvi Parlarne E iniziare un percorso Ti ha aiutato È stato lo sport Magari Ti ha aiutato Comunque A cambiare Lo sport Proprio è stata La prima medicina Prima ancora Del percorso Cioè Comunque sia Soprattutto il padel Parlo del padel Quando mi dici Perché per me adesso Lo sport è il padel Sì Ricordiamo che tu sei Un giocatore di padel Semibravo Semiprofessionista Poco prima Il semiprofessionista No È stato innanzitutto Uno sport Che mi ha aiutato Tanto a Rirelazionarmi Con le persone Da Antonio Non come Junior Kelly Perché nello sport Tu sei Antonio Non è che vai lì Tu entri lì Piacere Antonio Giochiamo Non siamo manco Cazzi Dei presentarmi Con Junior Kelly Non volevo sapene nulla Nel Junior Kelly Io sto qui per giocare E fare sport E neanche all'altra persona Tendenzialmente Interessava qualcosa Di cazzo fossi io Quello sta lì per giocare Paga Gioca Vuole giocare Non vuole stare a parlare Con Junior Kelly De turno O qualsiasi altro Personaggio famoso Poi C'è sempre l'eccezione Becchi Quello ha Tu fai il cantante Però comunque giochiamo Non stiamo troppo a parlare Qua abbiamo pagato Un'ora e mezza Prendiamo e giochiamo Detto questo Io da che Il padel È stato un Diciamo un veicolo Per aiutarmi Ho anche aperto Un centro a Milano Insieme a tanti amici Alessandro Borghese Diretta Leotta Max Giusti E Gabriele Corsi Sì sì Siamo noi i soci Di questo centro qua E io Ad oggi Sto Dieci ore Dodici ore al giorno Praticamente In campo Perché mi aiuta Io entro lì dentro E non penso un cazzo Niente Totalmente C'è proprio Può casca il mondo Soltanto la ragazza Se mi chiamo la mia ragazza O Umberto Che è il mio manager Allora rispondo Sennò per me può casca il mondo Non me ne frega un cazzo Ma da che è dato Questo successo così Immediato e diretto Del padel Perché Cioè Nell'immaginario Per chi non lo fa Io non lo pratico Però Ho tantissimi amici Ho mia moglie Che è completamente Impazzita Per il padel Una persona che ha mai fatto sport Da un giorno all'altro Vorrebbe giocare solo a padel Cioè Da che Da che dipende Allora secondo me Ancora oggi Non è visto a tutti Come uno sport A tutti gli effetti Perché tu conta Che la maggior parte Dei giocatori Non sanno neanche Che esistono Dei professionisti Di questo sport Cioè Non guardano su Sky Il Premier Padel World Padel Tour Questa roba qua È uno sport Molto più facile E immediato Rispetto al tennis E diciamo È paragonabile È il calcetto Per il calcio Che è Forse ancora più immediato Cioè Se andiamo noi Noi tre Più Prendiamo uno a caso Qui in mezzo E andiamo a giocare a padel Con tutto che io Sono bravo a giocare Voi non lo so Tu mi hai detto Che sei una sega Sì no no Una sega Ma io tutto quello che faccio Prendiamo uno Tu ne presentai podcast Io proprio È in generale Prendiamo uno Che scemo Prendiamo uno Che è ancora più sega di te Ti garantisco Che noi entriamo in campo E ci divertiamo Possiamo giocare Mentre col tennis Tu ci impieghi Io non ho mai gioco a tennis Ma so per certo C'ho amici che hanno giocato a tennis Vent'anni Ci metti un anno Se tutto va bene Per imparare il servizio E la cosa Che sicuramente piace A tutti quanti Oltre che giocare Facilmente È anche Che fai molte Relazioni Che hai nuove amicizie Quindi tu entri in campo Conosci nuova gente È un ambiente Comunque sia sano Non è come il calcio Ho giocato a calcio una vita Nel calcio Ti ammazzi De botte Ho fatto questa Una terza categoria Mi sto spaccato tutto Tutto Cioè Dita dei piedi Ginocchia Ustioni sui campi sintetici È una guerra A calcio È una guerra Entri Ma manco arrivi Già Tu sei un pezzo di merda Torna a Sanremo Così Manco entri in campo A coglione Torna a cantare Così Cioè proprio Fuori da testa Mentre quello è uno sport Molto più educato Come il tennis Tendenzialmente E quindi difficilmente Trovi in discussione È molto più facile Stare a un rapporto positivo Da quella partita Creata con sconosciuti Giochi a calcio Con sconosciuti 80% litighi Cioè Non so se avete mai fatto Tornare di carcietto Carciotto Sì 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 O no Dimenti Dalle vostre esperienze È così è così E quindi secondo me È la serenità La positività De questo sport Che Che ha aiutato Lo sport stesso A spopolare Poi Mi auguro diventi anche Penso che diventerà Sporto olimpico Nel breve E per me è diventato Anche un lavoro Perché ripeto Il centro sportivo Che abbiamo aperto A Milano È un lavoro A tutti gli effetti Io comunque sia Sto lì tutti i giorni Seguo Organizzo eventi Chiudo le partite Sto tutto il tempo lì Quando non sto in studio Sto lì E allora ti verremo A trovare In questo Circolo di Padre L'abbiamo avuto Appunto Max Giusti È un mega Circolo di tennis Qui Sì c'è il Pisano Ci ha parlato Tanto del tennis È interessante Sentire parlare Di Padre E prima Avevamo parlato Appunto Dei VIP O dei personaggi Famosi Che giocano a Padre Ma l'ho nominato Prima Max Sui soci Sì Quali sono i più forti Giocatori di Padre Conosciuti In Italia Allora Uno che mi ha impressionato È Vincent Candelà Cioè proprio Cazzo Non te lo aspetti Invece entri in campo Tira di quelle sassate Da ogni posizione del campo Poi c'è Dati che Che fa coppia con Totti Spesso Sì Allora Un altro forte forte È Nick Amoruso Forte Anche Budel Poi sono giocatore De destra e de sinistra In un altro momento Vorremmo aprire un altro discorso Non sto qui a asciugarvi Che cazzo me ne frega Del Padre Giustamente Che ricordiamo Che è un racchettoni Che ha fatto i soldi Esatto Un racchettoni Che ci ha affatto Esattamente No e Anche Paganin Paganin Cazzo se è forte Ci ho vinto un torneo con lui Abbiamo fatto un torneo a Milano Fra VIP E abbiamo vinto io e Paganin Poi ce ne stanno tanti Che sono solidi Però I più forti adesso Su due piedi Mi vengono in mente Anche Locatelli Tu ricordi Locatelli? Sì sì Ma tutti comunque ex sportivi Sì Tendenzialmente capiscono bene i rimbalzi Cantanti Presentatori Non c'è Allora ho giocato con Pardo Bravo Giusti Bravo Però non è che dici C'hanno quel colpo Cazzo Cioè mi ammazza No no Max ce l'ha detto Che lui è un tennista Esatto esatto Sa giocare Però i vetri fa un po' di fatica Io non avendo mai giocato a tennis Ho iniziato subito col padre Quindi bella lì Cioè Ci ho preso subito gusto E ho capito subito Quello sport lì Chi viene al tennista Secondo me fa più fatica Perché la palla te supera Pensi che il punto è finito Invece il vetro è il tuo amico E te la ridà sempre Però aspetta Presentatori Cantanti o rapper Penso di essere più forte Perché sono l'unico Cioè Gioco da solo praticamente Qui lanciamo una sfida Se c'è qualche cantante o rapper Che gioca a Padel E vuole sfidare Junior Kelly Ma ci saranno Ci saranno Se è organizzata una partita Noi veniamo a fare la telecronaca E registriamo Vediamo veramente Se Junior Kelly È forte quanto dice Con i rapper sì Con gli altri non matiro così tanto Senti ma abbiamo parlato di sport Dobbiamo un po' Concentrare le domande Perché ci sono tante cose Che ti vogliamo chiedere Eppure Non abbiamo moltissimo tempo Che rapporto hai con la cucina? Tu sei uno che cucina Ce l'hai un tuo piatto decore Che prepari agli amici Quando vengono da te Oppure ordini la pizza A Milano? Che te mangi a Milano? Innanzitutto Perché sei andato a Viva a Milano? No Già avevamo detto Che te mangi a Milano? Che te fai quando Devo risentire a casa Ammetto che ordino parecchie volte Ordino parecchie volte Tendenzialmente Ma la mancia la dai? Era uscita la polemica Che Fedez non dava la mancia Quando ordino capita Capita Non sempre Voglio essere sincero Non sempre Capita che la lascio Ma la lascio direttamente Dall'applicazione Con Deliveroo Vuoi direttamente lasciare La mancia al rider Ok E poi parecchie volte Lo dico Sempre per essere sincero Io mangio fuori Cioè So poche le volte Mangio a casa Quando mangio a casa È perché rientro tardissimo Dal centro Dal Palace E quindi Torno a casa E mi cucino Un piatto di pasta al pesto Cioè Mario ogni tanto Ho cucinato Un piatto di pasta Qual è il piatto Che Ecco Essendo di Di focene Spaghetti Guarda che a Milano Il mercato del pesce Sì Questa è una leggenda Metropolitana No no Cazzo Non è una leggenda Non è una leggenda Cioè il pesce più fresco D'Italia Non è una leggenda Ti garantisco la verità Tu è normale Tu è normale Che dici così Perché tu lo mangi Che è diverso A chilometro zero Tu lo pesco E tu lo mangi È normale che tu c'hai fresco Io ti parlo del pesce più fresco Che tutta Italia Arriva prima a Milano Poi arriva nelle altre città Non ti parlo della città Dove viene pescato E poi arriva là Ma sembra che sto Portando l'acqua a Milano Detto No In serio Mi ha scioccato pure a me Ma intendiamo proprio Pesce pesce Cioè inteso come pesce No No Allora Comunque sia Io se devo cucinare un piatto Provo a fare uno spaghetto Che vongole Detto questo Detto questo Non so come mi viene Io ho detto Io tendenzialmente ordino O mangio fuori Poi c'è la mia fidanzata E quando decide di cucinare È brava E quindi cucina lei Però non è perché decido Che ne è la donna Deve cucinare È più brava Punto Fine E quindi il piatto Decore De Junior Kelly E lo spaghetto Quei vongole No quello sì A prescindere sì Anche quando vado Nel ristorante Io prendo Spaghetto che vongole No ma te dovresti prendere Risotto a milanese Visto Qual è il piatto preferito Milanese Due ce stanno Cioè la cotoletta O risotto Eh la cotoletta Dai E il sushi Senti ma ce l'hai un posto nel mondo estero a cui sei particolarmente legato Sì a Fuerteventura Fuerteventura perché ci ho girato un video dopo Sanremo Di un mio singolo che è andato benissimo Tra l'altro amore di mezzo Ho fatto anche parecchia radio E l'ho girato lì E poi sempre in pandemia Sono ritornato Sono ritornato sempre a Fuerte Perché si poteva tornare a viaggiare E ci ho fatto Dopo aver girato il video lì a gennaio Dal venerdì a lunedì Ci sono tornato 18 giorni E in quel momento lì è stato veramente Cioè bellissimo Perché poi Momento di chiusura totale Riaprono Puoi partire Te fai 18 giorni in una villa con gli amici Dove perché alcune cose ancora erano chiuse Ste ville con gli amici ritornano Sempre Se la prossima torta non c'è inviti Comunque ci restiamo male Però lì l'abbiamo divisa in tanti Fuerteventura è un po' il paradiso degli italiani Ci sono parecchi italiani Però devo dire una cosa Devo dire un mio amico Eddie Il frontman del pagante Si è comprato casa lì E io lì mi ero innamorato Dopo questo viaggio di cui parlavo Mi ero innamorato anche dei prezzi Ma non perché Cioè lì costava veramente tutto poco Ma ha detto Che mo' sono aumentati anche lì Aumentati Cioè prima una birra Al tempo un euro e cinquanta Un burrito due euro Follia Ma certo Non siamo abituati Cioè per me capito Io a Milano non ero abituato Andavo lì Una birra un euro e cinquanta Burrito due euro Mi faccio 46 birre Io sapevo di parecchi italiani Che vanno in pensione E si ritirano a Fuerteventura Però adesso sarà aumentata la vita Pure lì Quindi niente Pure tenerife Manco là Potremmo andare più No manco là No no Tocca a Narezzo Lì la qualità è alta Il prezzo rimane basso Se sta una bomba Danilo hai qualche domanda speciale Su quel tuo foglio Sono pieno di domande Infatti prima l'abbiamo detto Quale di queste Ritorniamo sul padel ragazzi Io ho tutte queste domande Ho scritto C'è una parte autoriale qui Quale di queste definizioni Sul padel è più giusta Il padel è un racchettoni Che ha fatto i sordi Oppure i tennisti falliti Passano al padel Per disperazione C'è sta Oppure se non riesci Nessuno sport Date al padel Allora la terza no No Non è vero no La terza no Però ne conosco tanti Che non sono riusciti Sì però non riescono neanche là Anche là Esatto C'è quelli così Non in generale Tu a Focene ci giocavi a racchettoni Sì Però non ero Cioè Ma annoiavo Ma annoiavo Beh a racchettoni C'è uno forte E uno meno forte No ma annoiavo Dico non era divertente per me Era più bello Uno in porta nell'acqua E poi facevi la tedesca No I falliti del tennis Passano al padel Allora di falliti C'è tanti amici Che giocavano a tennis Che hanno smesso Anche mio compagno di padel Ha smesso tennis Chi smette magari A livello di ritmo Perché comunque il tennis Non lo so No allora Allora ne conosco tanti Che hanno smesso il tennis 25 anni ci hanno Hanno smesso tennis E hanno iniziato padel Però falliti non lo so No vabbè Però c'è un po' Però sì Allora diciamo questo Che chi Non è riuscito Cioè che col tennis Non ce l'avrebbe poi mai fatta Mai Perché proprio non aveva Proprio niente Di qualità per arrivare A fare il professionista De tennis Ma ha raggiunto Posizioni altissime Nel padel in Italia Questo te lo confermo Questa la possiamo mettere Capito come È proprio uno sport Dei secondi possibilità Nel tennis la palla Te supera E il punto è finito E qua a me Mi ricollego a Gianluigi Bagnulo Che ha scritto anche Un bel libro sul padel Il vetro te la ridà Nel tennis Se te supera è finita Tanti tennisti Nel padel Hanno trovato Una seconda possibilità Non hanno mai Concluso nulla Nel tennis Nel padel Magari sono Nei primi 20 d'Italia 100 d'Italia Quindi il padel È il vetro Che ti dà Una seconda possibilità Nella vita Esatto A me a me non mi ha dato Una seconda possibilità Poi anche Gli sportivi Questa metafora Questa metafora Del cazzo Però è vero Siamo arrivati quasi Alla fine Di questa bella Chiacchierata Con Junior Kelly Vogliamo darvi Un po' di informazione E di coordinate Perché Torneremo qui Su questo sofà A farci due chiacchiere Con degli ospiti Che ci verranno a trovare Questa estate Vi diamo un po' di appuntamenti Perché La prossima puntata Il 6 giugno Avremo ospite Piotta Il 21 giugno Ci sarà con noi Giancane E il 22 giugno Ci sarà Ruben Di Cucina con Ruben E quindi Il giugno Di Decore Podcast A Parco Appio È veramente vivo Ci saranno Tanti appuntamenti Anche a luglio Ancora una domanda Per Junior Kelly Ce l'abbiamo Però volevo Concludere I ringraziamenti Io prima La classica domanda È Devi fare Una domanda Tu Al prossimo ospite Che avremo qui Sul palco Anche Se non sai Chi è Sì Anche se non Tu lo sai Chi è No no So chi è Non l'ho mai conosciuto Le persone Gli riportiamo La tua La tua domanda Quanti soldi ha guadagnato Col supercafone De Siae E questo lo chiederemo A Piotta Tra meno Però ti risponde Ho fatto la domanda Però voi dovete mettere L'obbligo a Piotta Ti risponde Non dico a farvi vedere I rendi conti Secondo me Sta ancora a contà Adesso Ad oggi non lo so Però Lo sai che Sono mai a contato Per tanti anni Frate Ha contato Per tantissimi anni Probabilmente Sì E noi riporteremo La domanda Di Junior Kelly Fatta a Piotta Vogliamo ringraziare Parco Appio Che ci ospita Emanuele Tutto lo staff Samuele Alla parte tecnica Vogliamo ringraziare Mattapier Avanti Alle registrazioni E alle basi musicali Su cui parliamo E tutte le persone Che ci seguono Su Spotify E su Youtube Vi invitiamo Come fanno i youtuber Quelli bravi A iscrivervi al canale Iscrivetevi al canale Decore Decore Podcast Ragazzi Anche su Instagram Su Youtube Su Facebook Su Spotify Ovunque Ovunque Sui muri Da per tutto Scrivete Decore Ovunque Voglio fare Un'ultima domanda Ad Antonio No a Junior Kelly Antonio Non so se tu Hai mai visto il film Hook Capitano Uncino No In questo film Praticamente C'era questa caratteristica I pensieri felici Servivano a volare A staccarsi da terra E quindi poi ad arrivare Nell'isola che non c'è Quindi Io ti voglio chiedere Qual è il tuo pensiero felice Quello magari a cui pensi Prima di addormentarti Per stare sereno Quello che Quando ti succede qualcosa di brutto Ti riporta Il sorriso sulla bocca Il tuo pensiero felice Qual è? Allora il mio pensiero felice Ad oggi È che so Che sto costruendo Qualcosa di sano E positivo Con la mia fidanzata Finalmente Dopo Troppi anni Sono riuscito Veramente a trovare Una persona Con il quale posso Costruire qualcosa Di veramente sano Per il futuro Che oltre a essere La mia fidanzata E la persona che amo È anche una mia amica È la mia compagna Di giornata Veramente Ritrovo Tantissime cose positive In lei Ogni volta che la penso Ogni volta che la guardo Quando mi sveglio Quando vado a dormire Cioè io penso veramente Tanto a lei E di quello che stiamo a fare insieme Quindi è È veramente Per me Margherita È veramente un pensiero felice Grazie Antonio Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi